Ciao ragazzi, benvenuti in questo piccolo vloghino, subito, rapido, rapido infatti come vedete non sono nella mia posizione abituale in cui faccio i video però c'è sempre, come vedete, il quadro che vedete sempre nei miei vlog quello di Topolini e Pippo, ma comunque, perché faccio questo vlog? perché voglio darvi giusto un'informazione molto particolare su quello che succederà da adesso, d'ora in avanti, fino a metà luglio forse sì, metà luglio, all'incirca più o meno metà luglio allora, cosa succederà? allora, molti di voi ormai già lo sanno, però la maggior parte no, quindi ve lo dico qui io quest'anno devo dare l'esame di maturità ora, fra una settimana, quindi giorno più, giorno meno finisce la scuola e inizia un periodo di pausa per me, per quelli della mia età e quelli comunque che sono in terza media perché poi, adesso non so il giorno esatto il 19 e il 20, non lo so esattamente iniziano gli iscritti della maturità e quindi mi devo preparare per questi iscritti e poi ci sarà comunque anche l'orale scusate se si muove, ma è che ho il computer sul letto e non c'ho voglia di spostarlo scusate se si muove ogni tanto dicevo, sì, devo dare la maturità quindi sto cercando adesso, in questi giorni di portarmi avanti con i video ho già registrato adesso tre episodi di The Sims adesso dovrò registrarne tre di Imperium tre di Minecraft e tre di Black Ops 2 anche se in realtà quei tre di Black Ops 2 sono già registrati, quindi chi se ne frega così a me non mi porto avanti perché siccome io carico due video a settimana quindi lunedì e lunedì salvo ogni tanto i previsti quando devo saltarli quindi sono due video a settimana siccome sono tre video che sto registrando per ogni mia serie, siccome io ho quattro serie tre per quattro fa dodici 12 serie le dividiamo per sono due video ogni settimana quindi in un mese sono quattro settimane due per quattro, otto quindi avete già otto video tutti belli pronti per questo mese più poi gli altri quattro per luglio quindi adesso avete per un mese e due settimane avrete dei video quindi state tranquilli quando ritornerò poi farò un vlog che vi dirò poi quando sarà finito tutto quanto vi dirò anche com'è andata se mi va e niente, volevo soltanto dirvi questo questo video lo carico subito adesso e poi mi metto a registrare gli altri video quindi a dopo cioè a dopo un cazzo non è un live quindi niente ciao 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 ciao